La comunità ucraina Sapevo che saresti arrivato Ammette il giornalista e direttore di Rai Day Time a Valerio Staffelli ricevendo il tapiro Ricordo a tutti che non eravamo in onda e che ci siamo scusati pubblicamente Ma coigo ugualmente l'occasione per scusarmi di nuovo Sono gli errori di chi fa molte cose, ma in percentuale mi sembra che prevalgano quelle fatte bene Grazie 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 Grazie